siamo 10 chilometri 11 di preciso da casa nostra siamo qui mare pineta vedete come si presenta marina di grossetto qui siamo in toscana come avete capito e ora andiamo a trovare parere siamo parcheggio libero assolutamente perché ancora un parcheggio si trova un pochino a distanza comunque si parcheggio trova e non c'è problema questi casi tutti casi di proprietà che ci sono anche tanti affitti nostra spazzatura ecco questa sempre uguale ordine pulizia c'è tanta pineta qui e qui un po erba alta mamma mia che erba alta spazzatura a posto non c'è fuori questo grande albergo antico ma non lo so se funziona si funziona ho visto questa qua si arriva a mare e mare qui dieci ma ecco qua mare vedete ancora non si vede ma ecco bagni già cominciano bagni qui 100 metri e si vede mare a noi oggi non lo so penso non andiamo al mare perché è nuvoloso albergo famoso ecco qua non è proprio lungomare ma quasi lungomare centro è più di là al centro grande parcheggio prima era gratis questo ora tutto strisce blu questo palazzo ha da pochissimo da cinque non dieci anni hanno costruito e questa è questa prima fila di mare qui un po bruttino ma più avanti era un po meglio vedete come si presentano così spazzatura nostra non siamo napoli tutto molto ordine poi come è cresciuto questo boschetto non riconosco io da un po che non vengo qua vengo a mare però diversi posti vado al mare no qui questi villetti vedete questo seconda fila di di mare in questo palazzo alto hanno costruito da 15 anni più o meno così centro comincia da qua di là centro proprio questo centro centro è pieno di negozi gelato pizza tutto che volete questo storico negozio di questa signora che da sempre vende qua ecco qua comincia centrale via centrale amici e qui ora andiamo c'è chiesa la chiesa di marina di grosseto ora vedrete centrale chiesa e qui proprio cuore di marina di grosseto ecco la chiesa vedete chiesa è questa pullman ci sono anche pullman ecco la chiesa marina di grosseto e questa proprio centro centro c'è questa panetteria pizzeria che fanno buona questa pizza guardate spazzatura tutto posto molto ordine qui si vende già tanta roba estiva erborosteria ma questo seconda via prima via lungomare è da da questa parte noi ora troviamo parcheggio qua e andiamo a piedi anche qui vedo che c'è qui posto anche qui si si mettiamo anche qui abbiamo trovato posto comunque posto c'è ancora ok amici ci vediamo più tardi